buongiorno ragazzi buongiorno allora ragazzi ho da darvi una notizia davvero interessante che si tratta? Lorenzo si tratta del fatto che in questa settimana verranno delle bambine da Roma perché hanno vinto un concorso sulla bellezza interessante Fabio ho detto un concorso sulla bellezza non un concorso di bellezza ah peccato ragazzi forza fate i seri vi voglio bene allora io ho deciso di fare in questo modo noi le porteremo un po' per il nostro paese e faremo vedere loro le bellezze del paese di Penta poi che so potremmo preparare un bel buffet che dite? si ci penso io bravo Antonio infatti avevo pensato proprio a te anzi sai che ti dico avevo pensato che tu e Rachele vi potresti occupare di questa cosa che ne pensate? si mi piace si pure a me speriamo solo che non mi mangio il tutto prima che arrivi Antonio Antonio sei sempre il solito allora come come ci vogliamo organizzare? questa parte del buffet ad ora ve ne occupate voi soltanto che per la parte diciamo artistica bisognerebbe studiare qualcosina non ci sono per nessuno Davide Davide allora fatemi pensare un poco che si potrebbe organizzare e che sarà mai stanno arrivando le principessi del Barenche si deve fare tutta questa organizzazione e ma Felicia sono tre compagne come voi e mi sembra esagerata tutta questa reazione comunque io ho deciso allora vediamo un po' per la parte artistica Vincenzo si maestra tu e Osvaldo farete da Cicerone certo maestra Michele ascoltami vieni un attimo qui vieni a prendere queste fotocopie che ho preparato per i compagni con le cose che devono studiare vieni vieni Michele vieni portale a Vincenzo madonna Michele ma sei sempre il solito raccogli le fotocopie signor Cicerone signor Cicerone signor Cicerone signor Cicerone avanti a posto a posto allora ragazzi è tutto chiaro? quindi voi due vi occupate dei tuffe e invece voi due mi raccomando studiate eh? si benissimo eccoci qua allora ragazzi queste sono le nostre tre amiche Giulia Asia e Ania andiamo con un applauso 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 a dimostrarvi un po' il nostro paese portandomi in giro poi al ritorno faremo anche uno spuntino bene 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 vedete lo spuntino la trovo interessante sì ciao sono Vincenzo e io sono Svaldo allora andiamo? sì sì mi raccomando mi raccomando fate onore cederei volentieri il mio posto tornate presto vi aspettiamo vi aspettiamo la chiesa di San Bartolomeo è la chiesa del santo patrano di Penta è compatrono con San Rocco del comune di Pisciano all'interno è conservata la statua di San Rocco e c'è pure la reliquia sapete che cos'è? ma queste non le guardano studiate tutta la settimana la chiesa ha un organo con più di 800 canne 800? sì sì 800 all'interno sono conservati molteplici quadri del famoso artista Michele Richard di famosissimo vettore ed è titolata anche la nostra scuola c'è solo questo da vedere? no ma abbiamo ancora molte cose da dire molte cose da dire? ammazza oh a che ora finiamo? infatti non avevate detto che c'era uno spuntino? eh sì un momento più tardi ora il momento della storia ma come mai siete venuti solo voi? voi chi? tu e questo questo a chi? quest'amico tuo prevedo una giornata terrificante siamo venuti noi perché siamo gli esperti di stare paesana ma che paesaggistica? eh insomma del paese e poi noi siamo i ciceroni hanno portato i maccheroni? mi sento terribilmente depresso ma che maccheroni? vi mostriamo l'interno della chiesa l'interno? la chiesa? ah eh mo si mangia oh pici a che state? beh per ora no ce ne vuole ce ne vuole ma che abbiamo fatto? la chiesa è bellissima e pure voi ciao sono asia non mi sono ancora presentato ufficialmente piacere io sono luca allora ti piace? lui? moltissimo allora bene direi che abbiamo finito il tour eh si è cominciato quello delle turbolenze amorose allora qualcosina da sbrenocchiare no? santa pace ma questo pensa solo a mangiare uffa osva io penso che il ruolo da cicerone non sia stato troppo apprezzato eh non c'è più rispetto per la bellezza artistica osva sei proprio sagge e che me ne faccio di questa saggezza se quelle ragazze non attacca ma noi siamo belli dentro si come la chiesa che non ho manco voluto vedere dai avviciniamoci al gruppo ehi voi torniamo a scuola ah almeno là forse si mangia uuu io a questo la sopporto proprio grazie grazie fammi farne un'altra bottiglia d'acqua Tanti hai capito che devi dare il buon esempio e aspettare che arrivano le signorine raki e se qualcuno le voleva avvelenare io devo provare tutto per evitare una sciagù Anto, smettila, ti conosco troppo bene! Eccoli, li ho visti! Stanno arrivando, stanno arrivando! Avete preparato tutto? Sì! Ciao! Bentornati! Accomodatevi! Ah, questo sì che è uno spettacolo di infinita bellezza! Zepple, panzerotti, mozzarella, sfugliatelle! Mi sento stanco e abilito! Oh, Svaldo! Ma devi essere positivo! Ora noi siamo piccoli, ma verrà il giorno in cui saremo grandi e bellissimi! E avremo fidanzate altissime, biondissime, picchissime e con gli occhi azzurrissimi! Lo dicevo io che sarebbe stata una giornata terrificante! Vince, vieni a prendere una bella pizzetta! Ma sì! Buongiorno, a presto! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti